Arrivano anche ad Arezzo all'ospedale San Donato ed in particolare nel reparto di malattie infettive le pasticche contro il Covid per curare ovviamente il virus. Sentiamo allora come sta andando dalla voce del direttore di malattie infettive Danilo Tacconi. Diciamo che finalmente l'armamentario terapeutico per il Covid per quanto riguarda la prevenzione delle complicanze è a pieno regime. Sono tornati gli anticorpi monoclonali, abbiamo il rendesivir, avevamo il monopinavir che è il farmaco che era arrivato poco dopo il 6 gennaio e da 5 giorni abbiamo a disposizione anche il Paxlovid che è questo antivirale potente, devo dire molto potente dal punto di vista dell'efficacia che riduce addirittura quasi l'85% dei casi le complicanze di persone che hanno comunque dei fattori di rischio per una possibile evoluzione del Covid. Il farmaco è diretto alle persone che ovviamente hanno il tampone positivo ma che si trovano in una condizione di salute per cui hanno delle patologie concomitanti che sono previste da AIFA, quindi c'è una lista di patologie, di malattie per le quali si può assumere questo farmaco mentre ovviamente per le persone sane non è indicato. E questo avviene indipendentemente dallo stato vaccinale, quindi se una persona è vaccinata o non vaccinata non conta ma se è positiva e ha comunque una di queste malattie è elegibile a questo tipo di trattamenti. È importante essendo terapie preventive il timing dell'inizio della terapia, cioè gli antivirali orali nel modo specifico vanno assunti entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi perché se si supera questo tempo ovviamente non hanno più effetto.